Buongiorno a tutti, oggi mi trovo a Biasca. Quello che voglio mostrarvi è un appartamento di 4,5 locali, situato al primo piano di uno stabile di 3 piani complessivi per un totale di 4 appartamenti. Superata la porta d'ingresso, troviamo subito davanti a noi la cucina. Come vedete la cucina è molto ampia, abitabile, c'è lo spazio per un enorme tavolo. La cucina in legno, completa di elettrodomestici A e G, lavastoviglie, forno e piano cottura. Alla destra della cucina, subito dopo la porta d'ingresso, abbiamo un piccolo locale utilizzabile come ripostiglio che potrebbe essere assolutamente utile in una casa vissuta da una famiglia. Ora andiamo a vedere la zona giorno, alla mia sinistra vedete un capiente armadio a muro, sicuramente utilizzabile per riporre gli oggetti una volta rientrati in casa. Ed ecco qua la zona giorno, luminosissima, il soffitto è caratterizzato da queste travi a vista, molto ampia, una zona perfetta per vivere la famiglia. Ora questo corridoio che si trova alla mia sinistra ci conduce nella zona notte. una prima camera, circa 13 metri quadrati, subito davanti il bagno con doccia, vasca, bc e lavabo. Proseguiamo poi il corridoio e troviamo altre due camere, una subito qui alla mia destra, questa camera è di circa 10-11 metri quadrati circa, e ancora una volta un secondo bagno, subito davanti, completo di lavabo, bc e doccia. L'ultima camera, in fondo a questo corridoio, ha già un armadio già installato, ed è di circa 10 metri quadrati. Tutte le camere hanno l'affaccio su una bellissima vista sulle montagne, in lontananza potete vedere la cascata, e quindi con questa vista vi saluto, se volete vederla chiamateci, ti affitto!